Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi vi porto con me a conoscere le nuovissime Made to Last Lips by Pupa. Ciao ragazze e ciao ragazzi di nuovo, allora come vi ho anticipato poco fa, oggi vi presento le Made to Last Lips by Pupa e sono delle matite automatiche labbra, assolutamente a lunga tenuta, sono waterproof e lasciano un tratto molto molto preciso e un colore veramente definito. Vi posso dire che per mia esperienza personale sono in assoluto le matite con maggiore tenuta che io ho nel mio beauty. Bene, adesso vi lascio a tutti gli swatch e noi ci vediamo o sentiamo a fine video, spero che vi sia utile. Questa è la numero 100 ed è il nude. Questa qui è la 200 ed è neutral. Ecco la 201 ed è Hazel. Questa è la 300 ed è Pretty Pink. Questa è la 301 ed è Apricot. Ecco la 302 ed è Rose. Ecco la 303 ed è Fucsia. Questa è la 400 ed è Vintage Red. Questa invece è la 401 ed è Pupa Red. Ecco la 303 ed è Pupa Red. E infine eccovi la 402 ed è Rouge Noir. Ed eccoci arrivati a fine video. Avete visto tutti gli swatch, però ci tengo a dirvi un'ultima cosa che ho testato io stessa nel corso di questi mesi. Sono assolutamente delle matite no transfer e ve lo posso assolutamente assicurare. Intanto vi lascio gli swatch ufficiali del sito Pupa con tutte le colorazioni delle matite. Spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo prestissimo nel prossimo. Vi mando un bacione. Ciao ciao!